Il mio carattere è T-1000. T-1000 è forte e scoperto. La mia missione è di uccidere Sarah Connor. Vieni con me se vuoi vivere! Un Terminator, non so che modello. B1000, metallo liquido. Se non c'è Sarah Connor, non c'è John Connor per salvare il mondo. T-1000 sa dove ci troviamo. Corri! Vedrai cosa succede. Ti stavo aspettando.